Benvenuti ragazzi, oggi sono stato un po' con un attimo via e ho preso due carte che mi servivano in funetteria, sono passato al volo, non avevo delle carte, niente e ho preso due carte che mi servivano e quindi vi porto un deck profile agent alla giornata vi ricordo che cerco una dai gusto fenice, non un dai gusto palcos fenice, fenice by gusto fenice, cerco questa cerco una fenice e chi dà i miei contatti, non offro cash però offro bene e iniziamo con la deck profile abbiamo due e art due e art, carta base del mazzo cioè quasi base del mazzo e li ti servono per dare i venus e poi li rimuovi per cadare i perior e queste sono venus ovviamente tra poi tre shine ball e vabbè le po' eeeh 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 e basta poi tre iperion il cali rimuovendo un agente dalla mano ma ea dalla mano dal dal terreno o dal cimitero e che dire grossissimi e poi abbiamo e poi abbiamo one sign gun e one assailant poi abbiamo uno spirit tripper poi ciccioni abbiamo bls sorcio non lo cerco devo solo cercarlo poi ecco le due carte che ho preso sono due araldini come entraps due max c e un veiler poi sempre come entraps un gordo e due trago poi abbiamo due duali che dovrò sostituire due tifoni che metterò il terzo un enemy un narcole e un reborn una starlight e un tt come uniche trappole poi extra abbastanza diciamo vuoto da due ragazzi una fenice e un nebbia scura nebbia scura già lo ho e lo cerco ultimate al massimo così a caso lol poi un leviathan un maize un tempo un ritmo uno stardust e una black rose come sincro e niente che dire che dire l'extra ci contate una fenice un catastor quindi due 4 5 6 7 8 9 10 mancano 5 carte dunque metterò mmm buono lo so comunque lo porterò domenica al torneo perchè e a jayce se non gioca la gente mi presterà la fenice o se no porterò irobit e niente il prossimo video che farò appena dopo questo sarà mmm vi mostro un po' l'ipad che ho e e niente vi mostro un po' le app così che ho e basta mmm niente ragazzi ciao e ci vediamo fra un attimo